Cari spettatori, ben ritrovati insieme in questo nuovo appuntamento con un nuovo video. Quest'oggi andiamo a vedere come installare Word ed Excel gratis sul proprio computer. Prima però di andare a vedere come fare, dopo la sigla vi spiego un po' di che cosa si tratta questo pacchetto. Tutti noi conosciamo la suite di Microsoft Office, infatti è diventata la suite di produttività più famosa al mondo. E Word ed Excel, assieme a PowerPoint, sono i programmi più utilizzati nel mondo del lavoro per scrivere documenti di testo oppure per fogli di calcolo. Il problema principale di Office è che la sua licenza è molto costosa, soprattutto se dobbiamo utilizzarla in casa e non abbiamo la disponibilità economica per poter utilizzare i suoi programmi. Ci sono ovviamente delle alternative, c'è chi ad esempio utilizza le versioni libere OpenSearch come LibreOffice che è la più famosa, ma anche OpenOffice che però hanno il problema che non sono pienamente compatibili con i documenti realizzati con Microsoft Office. Quindi ci sarebbe un problema di compatibilità dietro. Oppure c'è chi non vuole utilizzare tutti i programmi di Office, quindi si limita soltanto a Word oppure ad Excel. Oppure c'è chi vuole soltanto visualizzarli. Un tempo c'erano i visualizzatori di Office che permettevano di leggere e di stampare i documenti, ma non di modificarli. Un'altra alternativa che vedremo in questo video si tratta di Office Start 2010. Questa era una versione speciale della suite di Office che veniva preinstallata con Windows 7 dai produttori di computer di allora ovviamente e che permetteva di provare le principali funzionalità di Office, quindi Word o Dead Cell, prima di poter acquistare una licenza intera. Proprio perché aveva le funzionalità basilari è molto semplice da utilizzare ma soprattutto è gratuita perché non aveva bisogno di acquistare alcuna licenza opportuna. Certo era preinstallata sui computer di allora, però con un programma di installazione è possibile utilizzarlo anche sui nuovi computer ed anche su Windows 8.1 e il nuovo Windows 10, anche se si fa una procedura in più per poter permettere la piena compatibilità della suite. Bene, dopo che vi ho parlato in breve di questa versione, andiamo a vedere subito la procedura di installazione sul nostro computer. Vi ricordo che troverete tutto il materiale sotto in descrizione o nei commenti. Andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere come installare Office 2010 Starter. Prima dobbiamo andare a fare una piccola modifica al nostro programma di installazione, perché in Windows 7 il programma funziona regolarmente, mentre invece in Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 stranamente non si apre, nonostante la versione normale, quindi il normale pacchetto di Office 2010, si apre senza alcun problema. Per prima cosa dobbiamo andare ad aprire con il tasto destro del mouse il programma e selezionare proprietà, selezionare la scheda compatibilità, selezionare modifiche e impostazioni per tutti gli utenti, e mettere la spunta su Esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 7. Confermiamo, con il tasto destro del mouse eseguiamo come amministratore il nostro programma, consentiamo l'apertura e attendiamo che venga installato all'interno del nostro sistema. Dopo circa due minuti il programma di installazione scompare dal nostro schermo, quindi significa che Office Starter 2010 è stato installato correttamente. Basta andare su menu start per vedere le nuove applicazioni installate, quindi Word e Excel e i componenti aggiuntivi della suite. In Windows 7 si avviano senza alcun problema, ma come detto prima, con Windows 8 e successive versioni, Word e Excel non si aprono. Apparirà in basso a destra una notifica che ci avvisa che non è possibile eseguire Office Starter 2010 in Windows. Per risolvere questo problema dobbiamo andare ad installare un piccolo aggiornamento per Office. Andiamo ad aprire il secondo applicativo presente nell'archivio, anche qui privilegi di amministrazione, da confermare. Selezioniamo fare clic qui per accettare le condizioni di licenza software Microsoft e selezionare Continua. Ora dobbiamo attendere che l'aggiornamento venga installato e al termine, come da sua richiesta, riavviamo il nostro computer. Rieccoci dopo il riavvio del sistema per andare a scoprire Word ed Excel Starter 2010. Per cui andiamo ad aprire uno dei due applicativi, nel mio caso Word. Apparirà la schermata di avvio, che è leggermente diversa. Ci chiederà il nome, cognome e le iniziali. Ed ecco qua che apparirà finalmente il nostro programma pronto per l'utilizzo. Ci chiederà di accettare le condizioni di licenza, quindi il contratto. Selezioniamo accetta. E poco dopo apparirà anche una schermata per installare gli aggiornamenti importanti e consigliati, oppure non effettuare gli aggiornamenti. Anche se tanto questa versione di Office sta per avvolgere alla fine del suo supporto, per cui non cambia molto. Inoltre possiamo scegliere quale tipo di file predefinito vogliamo utilizzare per i file OpenSearch. Vi consiglio l'OpenDocument perché è pienamente funzionante anche con software come OpenOffice, LibreOffice e simili. La nostra schermata di Word Starter. Non cambia molto dalla versione originale, tranne che per qualche scheda in meno in alto, quindi nella nostra interfaccia Ribbon, dove abbiamo solo le schede di Home, Inserisci, Layout di pagina e le lettere. Quindi le funzioni più importanti per chi lavora molto con i documenti. Mentre alla nostra destra troveremo un bot con alcuni suggerimenti e un annuncio pubblicitario, che possiamo togliere tramite un plugin disponibile. Anche aprendo la scheda file, ovvero il nostro centro risorse, abbiamo anche qui le funzioni principali, quindi le informazioni sul documento, i file recenti, un nuovo file da aprire anche tra i modelli disponibili, le impostazioni di stampa, salva e invia file e poi la guida con le informazioni di Office. Noteremo alcune funzioni in più, come l'Office Mobile, che scopriremo in breve tra poco, mentre adesso troveremo pulsante per acquistare la versione completa di Office. Tra le funzioni che appunto mancano in questa versione di Word, ci sono le note a piedi pagina e bibliografia, i sommari preformattati e le revisioni commenti, oltre ovviamente alla mancanza di PowerPoint e Outlook. E anche nelle opzioni ci sono le impostazioni principali della suite, quindi le più importanti da utilizzare sul nostro sistema. Dopo aver visto Word, andiamo ad aprire anche Excel, quindi andiamo ad aprire Excel Starter 2010. Anche qui, rispetto alla versione completa, non cambia di molto. Abbiamo sempre le schede Home, inserisci il layout di pagina e, in questo caso, formule. E troveremo comunque le funzioni principali di Excel, quindi l'aggiunta di dati, di grafici e di formatazioni. Anche qui le stesse impostazioni come ci sono su Word, quindi sempre pulsante acquiste, sempre la barra a destra pubblicitaria. Quindi anche qui le funzioni più importanti di Excel per l'utilizzo. Oltre a Word ed Excel, Office Starter 2010 offre anche alcune funzioni aggiuntive, come Picture Manager, il programma per modificare le immagini, però ferma la versione 2003, e inoltre Microsoft Office, sempre a portata di click, che è il nome italiano di Microsoft Office Starter to Good Device. Una piccola funzione che permette di esportare proprio interamente Word ed Excel su una chiavetta USB per utilizzarli su un altro computer. Quindi è possibile utilizzare questi due programmi anche fuori dal nostro computer e utilizzarli su un altro sistema. Quindi, nel caso vogliamo modificare dei documenti in modo rapido, possiamo collegare una chiavetta e aprire Word ed Excel anche su un altro computer, con un altro sistema. Molto utile per chi ha bisogno di modificare in breve dei documenti. Questo è Office Starter 2010. Una piccola versione di Office adatta per chi vuole solo utilizzare Word ed Excel, oppure non vuole utilizzare versioni gratuite di Office, ma non vuole neanche spendere per utilizzare la suite originaria, oppure semplicemente per chi ha bisogno soltanto di stampare e leggere documenti. Può essere molto utile per molti di voi che non hanno bisogno di molte necessità. Come sempre troverete tutto qui sotto in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa versione e noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche con la campanellina, ma soprattutto seguitemi sui miei vari social network per ricevere tutte le novità sui nuovi video che usciranno e non solo, ma anche notizie, aggiornamenti, curiosità e molto altro. Grazie ancora per la visione, appuntamento al prossimo video. A presto!